Dopo le dichiarazioni del Presidente del Senato Pietro Grasso, il Sindaco di Melendugno, Marco Potili, scrive ufficialmente Accogliamo con grande soddisfazione le sue dichiarazioni in merito ad un approccio diverso rispetto ai progetti di infrastrutture e di interesse nazionale che prevedano il coinvolgimento diretto dei cittadini e degli enti locali. Siamo convinti, in particolare si legge, che per il progetto del gasdotto TAP che coinvolge direttamente il nostro territorio sia ancora possibile un approccio diverso che tenga conto degli impatti ambientali, economico, sociale, d'immagine e del fondamentale coinvolgimento dei territori interessati e delle naturali vocazioni degli stessi. È auspicabile che la ratifica dell'accordo tra Italia, Grecia ed Albania in merito al gasdotto da parte del Parlamento venga posticipata ad una fase successiva all'ottenimento della valutazione di impatto ambientale ma soprattutto alla piena adesione del territorio e della popolazione interessata al progetto in parola.